Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del primo di settembre 2020, oggi è martedì. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV su un canale 17, tra poco vedremo le notizie che abbiamo selezionato, le pagine che abbiamo selezionato per voi nella nostra rassegna stampa. Prima andiamo a vedere il santo del giorno, oggi festeggiamo San Prisco, il sole è sorto alle 6.34 e tramonterà alle 19.47. Per la giornata di oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano nel settore montano, avremo isolati e brevi fenomeni residui nella nottata che è appena trascorsa lungo la fascia costiera, possibilità di isolati fenomeni pomeridiani però sui rilievi. Per domani, mercoledì 2 settembre, cielo sereno poco nuvoloso con possibilità di brevi locali rovescio pomeridiani sempre nelle zone di montagna. Giovedì 3 settembre, ancora pioggia sulla montagna pesarese, quindi sul Carpegna, sul Catria, sul Monte Nerone, nelle zone interne. Dunque, temperature in lieve aumento anche quelle della notte soprattutto e le condizioni saranno stabili nel fine settimana, quindi temperature anche in lieve aumento, visto e considerato insomma che siamo passati nel giro di 24 ore dal tempo caldo, dal caldo, eravamo in maniche corte, siamo ripassati al pigiamone, beh, il pigiamone no, magari il pigiamone... Vediamo se Tommy, in che veste stava... anche tu hai la felpina questa mattina insomma, eh? Sei freschino al mare. Buongiorno Marco. Eh? Sì, sì, Marco, anch'io con la felpa è molto fresco questa mattina. E ieri notte hai messo anche il pigiamino, mi dite, eh? Il pigiama perché... E ieri anche il pigiamino, sì, era... Anche il pigiamino, per la prima volta dopo tanto tempo. Bene, vedo, mamma mia, che belle nuvole che laggiù che ci sono. Sì, ma mi sembra che ce ne stiano andando, perlomeno io ormai sono a 10-12 minuti che sono qua, io li vedo sempre più lontane, quindi... Diciamo... ...diciamo che quelle nuvole là sono affare di chi è a prendere il sole in Croazia, non qua. Probabilmente. Per i croati, vabbè, anche se la Croazia è un po' più in là. Va bene, quindi per oggi, insomma, la giornata come sarà, eh? Un po' così. Non è da mare. Ah, vai, sì, come dicete, sereno variabile, dai. Sereno variabile. Perfice in meteorologia. Ecco, le condizioni del mare, insomma, vedo che sono un po'... Assolutamente, il bagnino rossa, Marco, perché c'è veramente tanta onda. E dopo quello che vi è successo l'altro giorno, insomma, sarete lì belli, più severi del solito. Sì, direi di sì. Bene, grazie. Allora, a Tommy il bagnino che ci regala tutte le mattine questi scorci, anche belli, no? Vedete, ogni giorno un quadro diverso che Madre Natura e il Padre Eterno ci regala. Allora, dicevo, apriamo adesso i giornali, invece andiamo a vedere subito che cosa scrivono i due quotidiani che abbiamo in esame e sul nostro test screen come ogni giorno. Partiamo dalla fotonotizia del resto del Carlino, che oggi decide di aprire con l'economia, se vogliamo. Con la sfida di Walter, Walter è ovviamente Scavolini, bene dice dopo il lockdown e se il mercato riparte ci allarghiamo. Vedremo poi in che cosa consiste questo allargamento. Discoteche fai da te ma tollerate, i gestori dei locali sono in rivolta, si chiude un occhio sulle feste in villa o nelle sedi di associazioni. Insomma, ce l'hanno con quelle feste fuori dalle discoteche. Discoteche, come sapete, sono state chiuse. I medici dicono no ai test antivirus per le scuole, sono 70 quelli che si rifiutano e sono tutti iscritti al sindacato dello Snami. E poi, verso la prima campanella, la settimana del 14 di settembre si torna a scuola. Bus, la svolta, aumentata la capienza per il trasporto. Ceriscioli, l'intervista messo da parte nonostante i risultati. E poi le mie marche, Acquaroli e Mangialardi in duello. Sono notizie che troverete sulle pagine nazionali. Poi a Fano, il Monnalisa, troppa calca al concerto, arriva la polizia e scatta la multa. Siamo in centro storico, mentre in Viale Trieste, a Pesero, ladri in azione al Chirunguito. Spariscono soldi e liquori. Il calcio, come sempre, di taglio basso sulla prima del Carlino. La Vis trova l'under giusto e arriva dunque Eleuteri, triennale all'esterno destro di 22 anni. C'è un contratto triennale per tre anni all'esterno destro di 22 anni. Crespini dice il nostro progetto piace. Il basket, Sacco, l'ex coach, benedice la VL, esperta e solida. Dice difficile dire dove può arrivare, ma la qualità c'è e repegia l'attuale allenatore. È una garanzia. Corriere Adriatico, edizione di Pesero. Scuola, ripartenza dimezzata. Si apre il confronto negli istituti sul rebus della presenza, i conteggi sulle classi o sul numero degli studenti. Questo è da decidere. I trasporti, accordo nella conferenza Stato-Regioni. La capienza fino all'80% e la mascherina sull'autobus. A centro pagina, la provincia fa cassa, terreni in vendita, tesoretto da un milione di euro. Sotto, nuovo ospedale, Ceriscioli esautora il futuro governatore, poi marche, multiservizi, utili e tariffe, la politica divisa sui numeri. E affano di gestore, voci sulla perifferenza al sito di Falcineto. Così scrive il Corriere. Poi fermata una gang, la gang del Bancomat colpì anche l'Ubi di Lunanno. La polizia di Bologna arresta sette persone. Allora, dicevamo di Scavolini. Vuole allargarsi. In che senso? Intanto deciderà il mercato. Bisognerà vedere, dice il patron della Scavolini, come andrà il mese dopo ottobre, insomma verso novembre-dicembre, se e come ci ritroveremo a proposito della pandemia. Walter parla del progetto nato prima del coronavirus, però di ampliare lo stabilimento. Puntiamo ad aumentare la produzione, però dobbiamo tornare alla normalità. E a gennaio risponde, sì è vero, abbiamo un progetto per allargare degli spazi produttivi, ma è una scelta nata prima che scoppiasse il coronavirus. Per il momento è tutto fermo. Abbiamo dei terreni sul retro della fabbrica, guardando verso Ginistretto. Lì abbiamo un progetto per allargare la produzione. A proposito di realizzare le camerette, dice no, assolutamente non intendiamo fare anche le camerette. Poi in questa intervista parla di come sta andando il mercato, dice con la fine del lockdown il lavoro è ripreso in maniera molto consistente e lavoreremo in maniera molto importante anche a settembre ed ottobre. Ma nonostante questo non riusciamo a recuperare i due mesi di chiusura dello stabilimento. Ci avvicineremo ai fatturati dello scorso anno, ma non recuperiamo tutto quello che abbiamo perso tra marzo ed aprile. E c'è un poi, bisogna vedere insomma come andranno i prossimi mesi. E se tutto torna alla normalità, quindi la produzione tornerà a marciare sui livelli di prima del lockdown, il progetto per l'allargamento dello stabilimento andrà avanti. Mentre il gruppo Vitri Frigo, Vitri punta a finire entro l'anno il suo maxi capannone, una struttura da 25 mila metri quadrati accanto alla riva cold, un investimento che guarda soprattutto al 2021. Andiamo a Fano. Calca il concerto, stangata al Mona Lisa, il titolo locale del Pincio è stato multato per 400 euro mercoledì scorso. Il commissariato ha anche chiesto al Comune la chiusura per 5 giorni. Il problema è che durante lo spettacolo si sono aggiunti altri fuori dal nostro suolo. L'amministrazione deciderà se abbassare la sara cinesca per un po' di tempo. Mentre la notizia è che è stato riaperto il centro Margherita, tamponi tutti negativi e poi ora si attende soltanto che entro una settimana riapra la mensa e che il bel tempo permetta di godersi un po' il giardino. Andiamo invece sulla pagina di Pesaro, anzi nazionale del resto del Carlino. Così il Covid colpisce i polmoni, la scoperta, ecco i test salvavita. A Bologna, al Sant'Orso, la capofila di uno studio sul virus è letale, dicono, ma se interessa sia gli alveoli sia i capillari. Con due esami si stabilisce però il grado di gravità e si può intervenire subito con le cure appropriate. E in aula senza mascherina, dicevamo, sono le regole che tutti i genitori attendono, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Da indossare la mascherina solo negli spazi comuni, in classe si sta ad un metro di distanza. Oggi, tra l'altro, ritornano a scuola un milione di studenti alle prese con i corsi di recupero. Ci sono i test sierologici con il prelievo facoltativo per docenti e bidelli. Per quanto riguarda gli orari d'ingresso, la prima campanella decidono singolarmente i presidi. A bordo dei pulmini, un metro di distanza. Misurare la febbre tocca ai genitori, che poi dovranno in qualche modo presentare un'autocertificazione, che quindi i figli non hanno la febbre, e poi le protezioni obbligatorie per tutti, esognerati soltanto chi ha meno di sei anni. Alla mensa le turnazioni a tavola con posate, usa e getta. I contagi, siamo sul Corriere Adriatico, i contagi sono delle ferie, sei su dieci senza sintomi. Sei marchigiani su dieci si sono presi il virus e neanche se ne sarebbero accorti se non gli avessero fatto il tampone, vista la totale assenza di sintomi. E quasi altrettanti, il 57% del totale, non si sarebbero contagiati se avessero trascorso le vacanze qui da noi nelle Marche, quindi a casa, perché sono risultati positivi di ritorno dai viaggi all'estero, ovvero il 45,3% dei casi, oppure in altre regioni italiane, l'11%, e più della metà dei tamponi infetti, il 53%, inoltre emersa a seguito di screening, monitoraggi su larga scala avviati in ambito lavorativo oppure a seguito di emergenze di focolai. Ma come ci si accorge, scrive Lorenzo Sconocchini sul Corriere di questa mattina, di essere positiva al virus SARS-CoV-2, ad agosto soprattutto sottoponendosi a tampone in uno dei percorsi screening, per esempio adesso c'è quello scolastico, quello che devono fare o a cui si sottopongono il personale scolastico, e che hanno fatto emergere questi percorsi 191 casi, mentre 79 positivi sono stati rintracciati a seguito del tracciamento dei contatti di soggetti già positivi. I restanti casi erano pazienti con sintomi avviati al tampone dal medico di famiglia. All'inizio dell'epidemia, e qui parliamo dell'età media che si è abbassata, ai primi di marzo l'età era di 67 anni circa, poi via via è scesa 34, ma a metà di agosto è risalita, nelle ultime due settimane è risalita fino ai 50 anni di età. Test antivirus per le scuole, non li facciamo, dice Fabrizio Valeri, segretario regionale del sindacato SNAMI. Sono 70 i medici di famiglia iscritti che si rifiutano. La diagnostica è rischiosa, è poco precisa e quindi noi diciamo di no. Torna dalla vacanza in Spagna, invece il tampone a Fiumicino è risultato positivo, si tratta di un minore rientrato dalla Spagna in compagnia della madre, quindi è un viaggiatore residente a Pesaro e tornando appunto dal viaggio in Spagna con la madre, è entrato a pieno titolo nella statistica dei 173 casi positivi e sintomatici individuati nello scalo appunto romano di Fiumicino. Trasporto scolastico, fumata bianca, aumentato il carico fino all'80%, una pioggia di commenti positivi alla notizia data dall'assessore regionale Bravi, testimone di una giornata campale, sollievo tra le scuole e le famiglie contrarie alla didattica a distanza e dunque aspettative più che positive anche da CNA e con Fartigenato. Mentre sul digestore, siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino, ora spuntano altri siti, intanto c'è la foto, c'è la vignetta di Giombetti questa mattina dove ci sono i vari scaricabarile dei sindaci da Guzzi che passa la parola a Ucchielli, Paocchielli arriva a Fano con tutti gli altri personaggi, insomma preso Presidente della Provincia, Gambini, insomma seri eccetera eccetera. Allora c'è questa telenovela sul digestore che si arricchisce di nuovi sviluppi, il Comune di Fano non sceglie dunque di latte ai tempi, ai tavoli tecnici si fanno adesso altre ipotesi, Sterpetti, Calcinelli e Pergola. Allora tramontata l'ipotesi Canavaccio con gli abitanti che sono andati dal sindaco Gambini che hanno insomma fatto fuoco e fiamme e mentre il progetto su barchi della Ferronia SRL, dunque azienda privata giace ancora in provincia, spuntano, dicevamo, questi altri siti, siti alternativi che per le caratteristiche del territorio appaiono al momento come ragionevoli compromessi. Allora il sito che almeno sulla carta risulta avere molte carte in regola per ospitare questo tipo di impianto è l'area industriale di Sterpetti di Monte Felcino, vicina alla statale, vicina alle condotte del metano, in qualche modo già compromessa per via degli insediamenti dunque produttivi. Stesso discorso anche per la zona di Calcinelli nel Comune di Colle al Metauro. E poi ci sarebbe un terzo sito, sempre nell'entroterra fanese, ed è quello di Pergola. Anche qui ovviamente parliamo di una zona industriale, ma sappiamo bene che dopo Canavaccio tutte queste aree sono dal punto di vista infrastrutture certamente che potrebbero andare bene, ma che sono tutte queste valutazioni tecniche, solo squisitamente tecniche, che poi potrebbero scontrarsi con i giochi di forza politici e con le legittime aspettative del territorio e quindi dei residenti che spesso si oppongono alla costruzione di questi maxi impianti e questi biodigestori. Andiamo sulla pagina di Pian del Bruscolo del Carlino, dove c'è la cronaca i ladri fanno bottino pieno da chiringuito, colpo nella notte tra sabato e domenica, spariscono 3.000 euro in contanti e una ventina di bottiglie di liquore. Mentre oggi c'è il funerale del 18enne, vittima di un incidente con lo scooter, il 27 sera a Pesero, il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, dice di lui era un ragazzo d'oro, un ragazzo che con la famiglia albanese si è integrato perfettamente nel nostro tessuto sociale, nella nostra comunità e porterò dunque il saluto della nostra città di Ciocchielli. Intanto vedete qua Matteo Ricci con Liliana Segre, allora domani, mercoledì 2 settembre, verrà intitolato al campus scolastico di Pesero il murales dedicato a Liliana Segre alla presenza della senatrice a vite. Sarà un grande onore, dice Ricci, consegnarle il nostro regalo per i suoi 90 anni nel giorno del settantesimo anniversario della liberazione della città. L'intitolazione si terrà al campus scolastico, la 19 nel piazzale davanti all'Ipsia Benelli. La palestra invece a San Lorenzo in campo ha 50 anni, è ora del ritocco, ci sono questi lavori per 150.000 euro. Il sindaco dell'Ontre dice la stagione sportiva può ripartire, Covid ovviamente permettendo, sostituzione della caldaia con l'impianto fotovolcataico, il risanamento e il cemento armato, insomma ricambi dell'aria, questo è il progetto per la palestra. Intanto a Marotta il nuovo parroco è arrivato a San Giuseppe, Don Giuliano subentra dunque a Don Egidio, Bugugnoli ha guidato la comunità per 38 anni, il saluto caloroso dei fedeli. Dunque a Marotta è arrivato il nuovo parroco, Marotta è sotto la diocesi di Senigallia, nel fine settimana alla presenza del Vescovo Manenti si è svolta la cerimonia di ingresso di Don Giuliano Zingaretti che prende il posto di Don Egidio Bugugnoli, guida spirituale della comunità negli ultimi 38 anni. Don Egidio che ha 82 anni rimarrà però almeno per altri 12 mesi, quindi per un anno a fianco di Don Giuliano. Croce Rossa sulla pagina di Urbino, la lotteria della solidarietà, l'organizzazione già determinante nella fase acusta del Covid ha donato 1000 euro all'ospedale per acquistare delle attrezzature. E poi da Senigallia, movida ad alto tasso di trasgressione, tre sanzioni per alcol e mascherine, la polizia denuncia un 45enne ubriaco che chiedeva ancora da bere, multati due giovani sul lungomare. Segnalate diverse liti, identificati i gruppi di ragazzi. E poi si parla di vandali che fanno ancora strage di biciclette, molti mezzi erano parcheggiati e sono stati fatti a pezzi durante il fine settimana. Anche qui sul Corriere Adriatico i fedeli abbracciano i nuovi parroci, che emozione per Don Stefano Basili. A Ostra si è già insediato Don Giuseppe Giacani, Marotte e Mondolfi invece accolgono Don Giuliano. Vallefoglia, la giunta Ucchielli, senza confini, parte la nuova missione in Albania. Proposto un gemellaggio con Tropogia. Adesso l'iniziativa Merachi, destinata ai giovani. E poi da oggi Don Marco di Giorgio si presenta nella parrocchia Montecchio con la prima messa feriale. Sabato arriva anche l'arcivescovo Coccia alle ore 18. Intanto oggi, se volete conoscere, ma chi è che non conosce Don Marco di Giorgio, per tutti Digio, c'è l'appuntamento alle ore 19 con la sua prima messa feriale nella parrocchia di Montecchio. E poi alle 18, sabato invece, la messa d'ingresso ufficiale con l'arcivescovo Coccia. Seguirà poi nella pista polivalente di fianco alla chiesa un saluto della comunità a Don Marco. Attacco sessista da Urbino invece sulla pagina Facebook colpita la candidata Melini. Lei dice, Querelo, l'ex consigliere di Pietrarubbia, in corsa per le regionali con il Movimento 5 Stelle, devolverò poi tutto a Donne Stelle contro la violenza. Ubriaca picchia un'urbinata in vacanza a San Benedetto, colpito a tradimento. Il 21enne era in bicicletta con i suoi genitori. Era in preda ai fumi dell'alcol, urina sulla pista ciclabile, colpisce un giovane turista urbinata in bicicletta ferendolo al volto. L'episodio è avvenuto a Porto d'Ascoli, siamo sempre nelle Marche, frazione di San Benedetto del Tronto. Tutto accaduto la sera di domenica, intorno alle 10 di sera. L'uomo, un 43enne italiano, era inizialmente seduto su una sedia di uno chalet nella zona del camping. Stava dormendo, quando all'improvviso si è alzato, è iniziato a camminare sbandando vistosamente, a quel punto è andato verso la spiaggia e sul retro dello chalet si è messo a fare pipì su una palma. E poi da lì ha cominciato a dare a far da matto e è arrivato fino a mettere le mani addosso appunto ad uno che stava lì, un'urbinata e se le prese. Il Comune, siamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano, il Comune vende ancora casolari e terreni agricoli. All'asta, il 30 settembre, nove immobili per il modesto valore di base di 1,1 milioni. Quindi con un milioncino, chi ce li ha, insomma, si può portare a casa addirittura tutta sta roba. Questo è uno del casolare in vendita in via Tombaccia 168, tra l'altro guardate che bel casolare, in mezzo alla natura, adesso magari lì vicino passa la strada, ma comunque guardate che bel paesaggio. Il prossimo incanto organizzato dall'amministrazione comunale di Fano si terrà il 30 settembre prossimo e riguarda nove immobili di carattere rurale situati non molto lontano dalla città. L'importo totale a base d'aste è di 1.125.000 euro. L'elenco comprende un fabbricato, vabbè, poi c'è tutto l'elenco di questi fabbricati, che tra l'altro, insomma, non costano neanche molto. Poi chiaramente bisognerà rimetterli a posto, quindi, insomma, bisognerà spenderci poi dei soldi per ristrutturarli. Ma va bene. Adesso, invece, dalla Valle del Metauro, la chiusura dello svincolo Anas prevede 50 giorni di chiusura, insomma, fosse un brone est inaccessibile per i lavori di manutenzione, la carreggiata verrà ristretta e dunque l'unica novità, peraltro negativa dell'ultima ora, è che i lavori che dovevano iniziare oggi slittano sabato prossimo perché, insomma, probabilmente per il maltempo non ci sono buone notizie, dunque, per lo svincolo della superstrada Fossombrone Est. Anas, dice il sindaco di Fossombrone, Bonci, ci informa che per importanti lavori di manutenzione lo svincolo della superstrada sarà chiuso dal 31 agosto, però, vabbè, insomma, da oggi, fino al 20 di ottobre, mamma mia, finisce più, con conseguente restringimento del tratto interessato dei lavori dell'unica carreggiata. Dunque, chi proviene da Fano, direzione Urbino, troverà chiusa l'uscita di Fossombrone Est e dovrà utilizzare quella di Serrungarina oppure di Sant'Ippolito, altrimenti quella di Fossombrone Ovest. Chi arriva da Urbino, invece, e deve andare a Fano, potrà continuare ad utilizzare entrambe le uscite di Fossombrone. Dunque, si raccomanda, prudenza, scrive il sindaco, quindi il problema è per chi va a Urbino, probabilmente anche per chi va poi a Roma, eccetera, eccetera. Insomma, questa è un po' la situazione delle nostre strade. Siamo alle pagine di Sport. Un'occhiata, dunque, alla VIS Fano e VL. La VIS che prende Eleuteri, ecco l'esterno Under, contratto per lui di tre anni, per il giovane di San Benedetto, cresciuto nell'Ascoli. L'anno scorso si è diviso tra Feralpi Salò e Alessandria. Crespini parla di bel colpo. C'era concorrenza e questo conferma il nostro progetto, che il nostro progetto continua ad avere consensi. Poi sotto, invece, per quanto riguarda l'Alma, qui la situazione, invece, è ancora un po' più indietro, anche perché prima si è dovuto pensare al ricambio gestionale, quindi della compagine sociale. Adesso, però, bisogna pensare ai giocatori, quelli che poi scenderanno in campo e che dovranno garantire, si spera, lo spettacolo per coloro che andranno e vorranno assistere dal vivo alle partite del Fano. Alma, ancora tante, però, le caselle da riempire. Difese, prima linea, i problemi più urgenti, la Rosa Granata è ancora composta, per ora, composta da otto over e altrettanti under. Il direttore tecnico Traini alla ricerca di qualche rinforzo d'esperienza, così come aveva chiesto ieri, sempre dal giornale, attraverso il giornale, attraverso la stampa, l'allenatore Marco Alessandrini. Intanto, a proposito di allenatori, ce n'è uno, un ex allenatore della VL, ovvero Sacco, Giancarlo Sacco, l'allenatore della scorsa stagione, che dice, a proposito della VL, la squadra di quest'anno, squadra esperta e molto solida. Parla della nuova Carpegna Prosciutto e aggiunge a me Tambor, è sempre piaciuto e può dare molto. Filoi è un giocatore della Nazionale e anche Delfino è molto solido e d'esperienza. E allora, con questa pagina di sport, dalle grandi aspettative, adesso bisognerà vedere, nelle prossime settimane, quando scenderanno sul parquet, se non ricordo male, in Sardegna, la VL, se tutte queste aspettative troveranno nei fatti il loro giusto riscontro. E allora, noi adesso ci fermiamo. Abbiamo la pubblicità, poi per chi ci segue in diretta, la messa da Loreto, poi le repliche, salutiamo tutti quelli che ci seguono anche attraverso internet, la rete, i social, li salutiamo, li ringraziamo per l'affetto come sempre di ogni giorno. Ci diamo appuntamento questa sera però alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Vi auguro una buona giornata e arrivederci. Grazie. Grazie.